Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars Arriviamo a 300 like o condividete il video, iscrivetevi al canale e se nuovi C'è l'hashtag Brawl Stars con sotto i commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con il nostro colt nella Blue Iron Man Challenge ragazzi Dobbiamo continuare, non abbiamo tutto il tempo del mondo Dobbiamo spingere perché questi gradi dobbiamo farli sparire Allora andiamo direttamente a farci un po' di party dots in sopravvivenza a pianura volante Per cercare di portare su questi trofei e levarci finalmente anche il coltino Andiamo direttamente in gioco ragazzi E si parte sopravvivenza, vediamo un po' Come al solito ricordo sempre le regole della Blue Iron Man Challenge Questo bellissimo colt è grado 1, anzi livello 1 scusate Quindi non ha potenziamenti L'unica cosa che ha sono appunto i gradi 12 Quindi si ritrova sempre contro altri brawler già un po' più potenziati Là c'è la rosa Che rosa non è allora cos'è E' una rompiscatola che vi è da me E però adesso la allontaniamo un attimo Allora non sono riuscito a prendere altre energy Questa mappa c'ha i saltini quindi è molto pericolosa E giustamente ripareva che mi stringevano in due qua dentro Guarda gli schifosi Mi hanno fregato l'energy Per fortuna che sono vivo posso dire Quando mi fa dietro a mezzini voi in questa maniera Di solito io sono già morto Ok colpita un paio di volte Devo stargli un po' più lontano Se mi prende bene da vicino sono guai miei Allora sto infastidendo molto lei Usciamo giustamente Perché è così easy come sembra Oh è saltata via Ha fatto abbastanza bene a scappare in quella maniera Potrei dire Ok noi abbiamo un energy solo Ma siamo già quarti Quindi va bene così Tanto colpiamo quel poraccio Che cerca di scapparci e muore Siamo dei punti alla rosa Quello è vero Però 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 Chiaramente in questa mappa Me la sto cavicchiando abbastanza bene Oh rosa contro rosa Mamma mia Volta contro rosa Ok Ok Morduk c'ha una mira scherzissima Quindi il problema sarà Non farla curare Perché comunque una 4 è power Quindi si può fare Perché noi siamo 3 Mamma mia Crisco Vi è qua Crisco Crisco Che vuoi da me È morto Crisco Cominciamo molto bene la mattinata Con molta tranquillità Scusate magari il naso un po' taffato Però intanto la prima Ce la siamo già portati a casa Bella vinta E senza neanche effettivamente Camperare troppo Diciamo che abbiamo giocato abbastanza La gente si butta troppo Con sti cavolo di jump Cercando di andare subito al centro Ma delle volte possono essere Molto controproducenti Sicuramente Specialmente per tutti questi Midi che ci sono Sì effettivamente Tutti usano sto il primo Sto bull e tutto il resto Ma secondo me È uno sbaglio Perché io col colt Ho più raggio E quindi sto giocando molto più Safe Perché c'è la gente Se butta più in avanti Questo colt non è molto sveglio Per mia fortuna È meno sveglio di me la mattina Anche se mi ha quasi ucciso Io sono meno sveglio di lui A questo Allora Lui sta là Tra palla E infatti è uscito Sto andando infastidire l'altro colt Non è la mossa più giusta Allora Lì c'è una bellissima Shelly Che atterrerà proprio lì centrale Se va a meno con qualcun altro Col sette Lì c'è un sette power up Rosa Che sarebbe da infastidire parecchio Gentilmente Se ci riusciamo Allora No Ho fatto i movimenti sbagliati No Mi ha preso Niente Terzi Avevo un bug dietro di me Ho notato solo dopo Che c'avevo il green screen spostato Quindi sicuramente Avete visto un pezzo di mondo Anche se non si vede niente Effettivamente Oh C'è un maledetto bull Non mi farà mai prendere Quelle due casse E se mi ci avvicino troppo Essendo anche un energy 1 Mi smonta malissimo Quindi non ci conviene Confrontarci Conviene Passa E andrà a prendere le altre energy Oh Oh Aspetta 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 Sto un po' stretto Tento Un pochino Stretto Ok Ho visto diversi Colt Stranamente Parlando Ok Fastidiamo sta gente Se li piglio Magari Fastidiamo Allora la gente qua Se sta meno a malamente Oh Per sbaglio L'ho ucciso io Bellissima Come si fa ammazzata Con l'ascelli Ok Sostanzialmente Morduk Ha la mirata in bradico Sempre Oh L'ascelli sta là Pesa un paio di volte Ciao Ascellina No Ti stai Aspetta che Si ricarica La super Per vero Ti c'è un bull Ti c'è un bull No Ho fatto lo sbaglio Della vita Stavo a pensare bull Eh Mi ha ammazzato Ragazzi Sette power up Sono troppi E si prosegue ragazzi Vai Devo fare un sacco di trofei E per salire di grado Di cattiveria Ah ma qui abbiamo Una bella cassa Mamma mia Quanto è sveglio Morduk Si stava perdendo Delle casse Comunque non è stata colpita Mai per l'angolo Del muretto L'angolo della cornice Ci ha levato Qualche colpo No Bull Ora è sfraganato Tutti i bull Qua sopra da me Ma è possibile mai Eh Possibile mai Aerop Eh Tu resti là Come faccio Ammazzato E fa sto giochino Guarda Preso Colpo lì ci passa Tranquillo Qualche colpo Lì ci passa Ti metti Della dietro All'angolo Bravo Così le voglio Oh oh Coltino Che mi vuole stringere Dall'altro lato Guardalo Guardalo Aerop Credi in salvo Lì dietro Certamente adesso sto sparando Un po' in automatico L'ammetto Ma devo tenere Aerop A distanza Qua c'è qualcuno C'era l'altro C'è Ranamente Non c'è Il problema Che la c'è Dovrebbe sta la cosa Ma non c'è manco La Shelly Perfetto Per noi Aerop Puoi anche Rimane là A mio parere Però Lo dico Due volte Ecco qua Fatta ammazzata Shelly Bravo Allora io ci provo Abbassa un po' Con la Shelly È andata a centrale Schifosa Siamo in tre E la Shelly Viene da me Mamma mia Il colpo Mi ha smezzato No è troppo potente Questi rega No è chiare Mamma mia Mi sono salvato Del peletto Eh niente Se mi avvicinavo Mi ammazzava lei Col colpo Dai che oggi Sto grado 13 Ce lo portiamo a casa Sicura palla E la sento tutta Intanto è andato in giù Ha sparato Che cosa ha fatto Il mio personaggio Perché Come ti è venuto In me Lo sapevo io Che veniva il bull A fregarmi la roba Schifoso E va diretta al centro Con i saltini No 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 Un altro Un altro raggio lungo No te prego Dai Copioni Andate con i bull Andate con quello Che vi pare No E dai Rosa 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 Ok Brava Rosa Mi sa che Sono due le cose Ha sbagliato Chiedemi che ha sbagliato Che non l'ha fatta Posta a saltar via Lei li voleva Quei due energy E invece Per sbaglio Ha fatto il jump Ok Riminiamoli Eh no È rimasto vivo Oh Si sono ammazzati Tra di loro E mordo che mangia Grazie Gentile Oserei dire Una stecca Che è ancora Viva E sta lì A rompe Ok Stecca Non esiste più Buongiorno Signora Rosa La stecca Ancora è vivo Tutto a monte Siamo in 5 Ancora Che sta succedendo Oh oh La stecca è tra i potenti E qua a mezzo Non è vero È un 3 Stavamo peggio Vero Oh Guarda come si è salvata Schifosa Non più No 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 Maledetto Maledetto Stecca Ok Quei saltini Possono essere Alquanto infami Ragazzi L'avevo sottovalutata La cosa Eh Me la fai prende Sta cassa Gentilmente Una 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 Sola Dai Una sola Una sola Niente Non me la Lascia Non manca A volerlo Niente Dobbiamo Rimani Poveri Perché c'è Stare Simpatico De turno Che arriva Sempre Il primo Kelly Rosa Oh Ma uno Delicato A me Non mi sale Mai La Ecco Il qua Annaccia Allora Te Un po' Dei colpi Digli Tiro Perché hai Rotto Le scatole Quasi Fasi Eh Io Sto Almeno A te Infatti Che Cavoli Allora Tu Ti Tirata Schifo Intanto Vi facciamo danni E l'abbassamo A sto maledetto Oh E' andata Fk E' andata Fk Non è vero Non è Fk Questo è un set Schifoso Solo non L'ammazzerò Mai Penso E vabbè Siamo ritrovati Un po' Nei guai Che mi Fastidire Del primo Sperando che Non ci vieni In faccia Dei cattivi E Ori C'è L'altro Colt Colt Versus Colt No Ovviamente No Per fare i punti Poi c'ha l'R E questo sta a far giro Non sta a far giro Sta a jumpare Che bello Come jumpi felice Olè Grazie Servivano proprio Due energie Eh Dei stare gentile Baba Io te levo Tutte le difese centrali Così qua Al centro Questa Prescinta Ok Un paio di colpi Te l'ho tirati Le voglio tenere basso Che almeno Saria qualcun altro Ce la fa Eh beh Ti piacerebbe un po' Troppo a te Sta storia Eh Vabbè Mi sono andato Ieri Però Zomma Dai Ok Ah Oh E' jumpato Con 127 Di vita Voleva scappare Da me E invece Ok Andato da lui Ho fatto la scelta Oh Eh Mi dispiace L'ho scelta Stata Sbagliata Molto Sbagliata Dai che manca Pochissimo al grado 13 Mi serve Mi serve Ma perché Prendo il muro Non ci arrivi in tempo A fregarmela Russo Allora Vedo qualcuno Fermo lì Non so se è andato Fk Mi sa di sì Noi ne approfittiamo Non è vero Bloccato anch'io Quindi non me ne sono potuto Approfittare Eh Potrebbe arrivare Da qua Sto Ok Forse fa un jump Via Stanno andando tutti al centro A questo punto Bastidiamo i centrali Oh Guardalo Che si salva in questa maniera Susso dei miei stivali Guardalo Guardalo Ora Io direi Questa La tengo per momenti migliori Intanto la abbassiamo La famo Fa colpì molto Eh Ah Ti piacerebbe Tim a grado 12 Sei sicuro di questa scelta Dovere andare al centro Ok Spostamento tattico Viene verso di me Ah no Ha fatto Tim con la rosa Tifoso No Eh Hanno fatto Tim Raga Sono morto Io sono morto sicuro 100% Forse no Però Ci è mancato poco Eh È perché è arrivato Nel primo a salvarmi Volontariamente Era il suo Principale Scovo Guardali Guardali Stavano facendo Tim L'ha ammazzato alla fine Furbo Quindi sono rimasti Io e il russo Mi piace Sì sì Faccio sopra Vai Vai lì Bravo Aspetta la morte Così ti voglio Vai così Beh Proprio nel fumetto Vai Oh Che bellezza Che bellezza Ok Vai Anca pochissimo Al grado 13 Qualche punto Ok È venuto nessuno A rompermi le scatole Quello si è fatto Menà perché voleva Rimani sul tempo Per saltare via Qualche colpo È andato a vuoto Oh Un pochino Da qua giù A cercare di sopravvivere E vabbè Mode potenzi pure Sei seria No No eh sì Sei serissima Ah dai Quinto No però E Ultima Partita Se in quella abbiamo fatto solo due punti Ne manca uno Per passare a grado 13 Maledetti Ok Andiamo a prendere pure questa sopra Che sembra tutta nostra Nessuno è andato a reclamarla Ma perché Quella rosa ha avuto Ah no C'è un altro colt Ok c'è un altro colt Dobbiamo stare attenti La Sono partiti subito al centro Ok qualche colpetto Io lo leviamo Un po' di vita È importante toglierla Mamma mia L'ho preso Non so neanche io Come l'ho preso Ma Non mi sembra La scelta più giusta Quella che hai fatto Ricordati che sei un colt Non sei Credi di essere Ok Alla fine è morto lui Invece che rosa E rosa non c'ha lo scudo Grazie E io mi potenzio Ok No No Non vale Guarda Arriva La furba Fregasse tutti i punti Dell'altra rosa Le potenziala schifosa Dai da lì te piglio È furba Ok Si è spostata dal lato giusto E io invece ho tirato Leggermente Diagonale Niente Si è pullata Ne manca uno Però Dove sei nascosto Ok Guarda che so Come funziona Sta mappa Eccolo È apparso È apparso L'altro coltino È un po' più basso Di me Quindi lei se ne approfitta E per me potrei Approfittarmi del fatto E invece no Sto tirando Malissimi colpi Oh oh Sta per saltare Al centro No non salta Al centro Sta aspettando Il momento opportuno Per farmi la La furbata Ok Si sta spostando Diagonale Dall'altra parte Per fare l'altro jump Invece Si è incastrata da sola Ma che scema Vabbè Grazie Gentilissima Siamo arrivati A grado 13 Quindi un altro punticino Verso il cambio di colt Ne mancano 3 E potremmo cambiare Finalmente questo colt Allora Andiamoci a prendere Ticket gratuiti a random Di oggi Andiamo a vedere Il nuovo evento Che ci dà I punticini E ci prendiamo Le due casse Anche se tanto Non potremo utilizzare Niente che esce da qua Ne sapete La Blue Iron Man Challenge Sapete bene ormai Come funziona Se seguite già il canale Dalla prima puntata Ok Allora Mi prendo anche Questi soldini Che non potranno essere usati E staranno lì fermi E niente ragazzi Arriviamo a 300 like Condividete il video Schiedete al canale Se i nuovi Lasciamo il hashtag BlueStars Oppure BlueIronManChallenge Con i sottotitoli momenti Per ricevere un cuoricino Ci vediamo nel prossimo video